Associazioni, movimenti e comitati della Piana del Sele costituiscono il coordinamento salute, ambiente e territorio. Da Battipaia, Eboli, Serre, Capaccio Pestum, Contursi, Albanella, rappresentanti di un comitato che nasce sull'onda dell'emergenza legata alla questione dei rifiuti rimandati indietro dalla Tunisia, che la Regione Campania intende stoccare nell'area militare di Persano, dove ancora non sono state stoccate da 14 anni oltre 40.000 tonnellate di ecoballe. Sulla questione dei rifiuti a Serre, il nascente coordinamento chiede un incontro con il coordinamento dei sindaci dei comuni della Piana del Sele, che era stato proposto di costituire, a partire dal Consiglio Comunale Aperto di Serre, per fare il punto sulla questione dei rifiuti destinati a Persano e che potrebbe tenersi mercoledì prossimo, 16 marzo, a Battipaia, nel Salotto Cittadino. Ed ancora il coordinamento vuole che si preveda la nomina di un esperto che possa assistere alla caratterizzazione dei rifiuti contenuti nei container, attualmente sotto sequestro nel porto di Salerno. Tutti i comuni interessati dovranno poi ufficializzare la nascita del coordinamento dei sindaci della Piana del Sele e soprattutto fermare ordinanza di divieto di transito sul territorio di competenza dei camion che trasporteranno i rifiuti. Il coordinamento Salute, Ambiente e Territorio monitorerà inoltre anche la nascita dei subambiti distrettuali per la gestione del ciclo dei rifiuti e la cui istituzione, scrivono, vorremmo evitare si risolva nella creazione dell'ennesimo carrozzone. Grazie a tutti.